Il notiziario è offerto da Hotel Palazzo Piccolomini, concessionari Alfa Romeo Coar. La regione Umbria è tra le prime ad ospitare gli extracomunitari giunti a Lampedusa dalle zone di guerra del Nordafrica e tra le città ospitanti c'è anche Orvieto. A bordo di una nave traghetto sono arrivati al porto di Civitavecchia i 328 extracomunitari che verranno accolti nella nostra regione. 23 di questi sono già ospiti della Caritas di Orvieto, dopo che la protezione civile li ha trasferiti dalla Questura di Terni al centro di accoglienza della Caritas di Ocesana. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di tunisini adulti di sesso maschile e si troverebbero tutti in buona salute. Al momento non è possibile incontrarli perché presso la Caritas sono attualmente in corso le formalità burocratiche da parte dell'autorità di polizia e sanitarie della nostra città. Per tutti loro da oggi dovrebbe iniziare una nuova vita.